vai questo ma va ma che ci raggiunge questo questo via davanti ma che ti salto via dai piano è no appoggia il davanti e lo salti via appoggi il davanti e lo salti via, piano scaricala appoggi e salta via vedi due movimenti o lui non ha messo il piede come non lo so perchè lui lo fa continuo si fa lineare lui lui lo fa continuo li fai vedere ma non ti ascolta grazie a tutti la